20 anni fa nasceva la filiale di Teggiano della Banca Montepruno, 20 anni di successo ma anche di storia e per onorare questo momento i dirigenti dell'Istituto di Credito hanno voluto organizzare un momento istituzionale all'interno dello spiazzale dell'hotel La Marchesina a Pantano di Teggiano. Tanti i presenti, a parte la dirigenza e tutti gli operatori della Banca Montepruno, le autorità civili, militari e religiose del territorio e non solo. La filiale di Teggiano ha rappresentato il primo punto operativo nel territorio del Vallo di Diano consentendo l'avvio di un programma di sviluppo in tutto il Vallo che ha portato negli anni la banca a raggiungere dimensioni di primissimo livello nell'accredito cooperativo tanto da essere la prima filiale della banca. Vediamo come è andata la serata nelle interviste realizzate al margine dell'incontro. Al futuro abbiamo guardato nel momento in cui abbiamo deciso di scendere qui a Teggiano che rappresentava il trambolino di lancio alla banca. Abbiamo deciso di venire giù a Teggiano perché storicamente e anche come uniformità pure di persone era quella zona che valeva più la pena di essere sviluppata in quanto c'erano tante attività che lì non c'erano e poiché la banca è come ogni impresa ha bisogno di crescere, di svilupparsi, di patrimonializzarsi e noi più che mai per poter tutelare i nostri risparmiatori dobbiamo crescere con il patrimonio. Per fare questi dobbiamo incrementare sempre più gli investimenti, investimenti logicamente che danno dei buoni risultati e che ci consentono poi di raggiungere una patrimonializzazione a tutela, ripeto, dei depositanti. È stata la prima filiale che la nostra banca ha aperto nel Valoridiano, è stata la filiale che ci ha dato il via per poi riscutere tutti i successi che abbiamo riscosso. Ricordo solo alcuni dati, eravamo in 7 quando siamo venuti a Teggiano e oggi siamo in 130, eravamo la seconda filiale e oggi ne abbiamo 18. Siamo veramente orgogliosi di questa manifestazione ma siamo orgogliosi soprattutto perché vediamo stasera dei visi noti a noi, noti perché ci hanno accompagnato da 20 anni a questa parte perché si sono fidati di noi, persone che hanno affidato i loro risparmi e anche le loro idee alla nostra banca e noi nel nostro piccolo credo siamo riusciti a dare delle belle risposte, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Però stasera festeggiamo, festeggiamo questi 20 anni che ci hanno visto protagonisti sul territorio. Poi toglietemi la soddisfazione di dire che oggi 21 di settembre di 28 anni fa venivo nominato direttore di questa banca quindi di conseguenza doppio festeggiamento per me che sono orgoglioso di esserlo. Mi auguro di poterlo fare per ora tanti anni, se la salute mi assiste. Ho avuto qualche problemino che dichiaro ufficialmente in fase di guarigione però ecco io ci sono con forza e con determinazione.